Siamo fotografi o siamo social media manager? Quanto tempo dedichiamo a quello che abbiamo scelto come nostra professione e in certi casi anche vocazione e quanto tempo invece siamo costretti a dedicare alla creazione di contenuti e alla sponsorizzazione della nostra attività? Nel corso di questo video vado ad affrontare questo tema spinoso per trarre le conclusioni al termine per cui vi invito a seguirlo fino alla fine. Ciao a tutti amici bentornati sul mio canale io sono Cesare e oggi vi parlo della sinergia che si è creata in questi anni tra il mestiere di fotografo e quello di social media manager. Per chi non lo sapesse mi occupo di fotografia e videomaking ormai da diversi anni per cui questo è quello che faccio tutti i giorni e vi porto su questo canale dei contenuti per tenervi aggiornati su quello che è il mio viaggio in questo meraviglioso universo. Per chi di voi fosse interessato vi ricordo di lasciare un like a questo video, iscrivervi al canale e attivare anche la campanella. C'era una volta il fotografo. Una volta il mestiere di fotografo si vendeva da solo perché ce n'erano pochi e quando qualcuno aveva bisogno era abbastanza facile individuarne uno e andare a richiedergli i propri servigi oggi sono tutti fotografi o meglio sono tutti a me piace chiamarli fotografanti perché sono tutti in condizione di scattare delle fotografie però di fotografi ce n'è più di prima ma comunque non sono tanti. I fotografi che lo fanno seriamente non sono tanti. È diventato semplicemente difficile trovarli perché con tutti i Mario Rossi fotografo che troviamo su Instagram piuttosto che il John Smith fotografi che troviamo su Twitter o su Tumblr o da qualunque altra parte è diventato difficile distinguere un pinco pallino che si è scritto fotografo dopo nome e cognome da uno che invece lo fa di mestiere e molti che lo fanno di mestiere non si scrivono neanche photographer dopo il cognome perché non ne hanno bisogno. Proprio come il ragioniere Trapunzoni non si scrive Augusto Trapunzoni ragioniere su Instagram scrive Augusto Trapunzoni e basta. E allora come fa oggigiorno un fotografo a rendere evidente ai suoi potenziali clienti che sta svolgendo quella professione e quindi a essere assunto. Molto bene ma andiamo a definire le due macro aree in maniera di andare a capire quali sono i punti di contatto. Come fotografo io sono chiamato a realizzare dei contenuti per dei clienti che ne hanno bisogno. Può essere una coppia che si sposa ma anche no perché a me quella parte non interessa. Può essere un'azienda che ha bisogno di fotografia di un prodotto o servizio per andare a realizzare una comunicazione. Questo è molto di più il mio target ma quale che sia il target in questione l'importante è che svolgiamo un servizio che interessa a qualcuno. Quindi andiamo a offrire i nostri servizi a chi ne ha bisogno. Questo è il mestiere di fotografo. Un primo punto di contatto con la parte social ovviamente si ha nel momento in cui io devo realizzare dei contenuti per i social di qualcun altro perché capita spessissimo che il cliente in questione che sia una baby influencer o che sia un'azienda mi chieda dei contenuti da poter utilizzare per i propri social. Quindi questo è il primissimo punto di contatto. Va da sé però che la cosa non si ferma qui perché nel momento in cui un'azienda mi richiede un contenuto per i social lo fa per pubblicizzare la propria attività. I social, lo sappiamo ormai tristemente tutti quanti, sono delle piattaforme su cui chiunque può postare quasi quello che vuole posto che non sfori da certe linee guida decise più o meno arbitrariamente a seconda dei paesi e delle piattaforme stesse e quindi privati, professionisti o aziende possono postare dei contenuti per richiamare pubblico, vendere un prodotto o servizio, entrambe le cose, fare personal branding, insomma ci sono diversi motivi per stare sui social media. Io stesso sono qui a parlarvi in questo video proprio perché sto facendo personal branding ed ecco che si pone il dilemma. Se io sono un fotografo e vedo le aziende che mi commissionano dei lavori per poi pubblicarli sui social, comincio a pensare anch'io che forse dovrei fare altrettanto perché se sono arrivato a un cliente con metodo tradizionale magari, quindi tramite il sito web o la pubblicità tradizionale, chissà quanti altri ne potrei avere se mi dedicassi anche ai social media. Ecco che comincio ad appassionarmi a quest'altra fetta di mercato e comincio a postare dei contenuti in maniera tale da raggranellare più clienti. Da lì a influencer il passo non è breve però lo può diventare, quindi che cosa succede? Un bel momento mi ritrovo a passare molto più tempo sui social media e quindi a ideare, creare e postare contenuti piuttosto che a svolgere effettivamente la mia professione. Ho visto questa cosa succedere per molteplici categorie di professionisti e di persone normali. Quello che succede è che fondamentalmente arriva un momento in cui i social media prendono il sopravvento e spesso e volentieri alla persona interessata non conviene più svolgere la propria professione perché comincia a diventare troppo vantaggioso dedicarsi unicamente ai social media. Cominciano ad arrivare offerte di aziende per avere delle partnership pagate, quindi per far vedere i prodotti di un'azienda il creator in questione viene pagato profumatamente magari semplicemente per indossare una maglietta. Purtroppo questo succede solamente in una minoranza di casi. La maggior parte delle volte quello che succede è che in questo caso il fotografo in questione si ritrova indischiato in una piattaforma o in più piattaforme che ti danno una ricompensa ma solamente a condizione di continuare a sfornare dei contenuti sempre più belli, sempre più elaborati col fine di intrattenere sempre di più il tuo pubblico. Il problema è che spesso e volentieri noi avevamo cominciato questa divulgazione sui social media solamente per attrarre nuovi clienti e il fatto che questi social media ci richiedano uno sforzo via via sempre maggiore per continuare a mantenere attaccate a noi le persone a cui siamo arrivati ci distrae dalla nostra occupazione principale e ci porta a concentrarci solamente su quello. Questa è una cosa che succede a tutti i livelli quindi è molto facile rimanere impantanati nel terreno dei social media tanto da non avere più il tempo di dedicarsi effettivamente al nostro lavoro. Questo è assolutamente un pericolo da evitare. Bisogna avere una pianificazione chiara, coerente, rigorosa però non bisogna lasciare che il social media abbia il sopravvento sulla nostra professione perché salvo rari casi in cui i social media cominciano a fruttarci così tanto che possiamo abbandonare il nostro lavoro originale nella maggior parte dei casi abbiamo ancora un lavoro principale che è la nostra principale fonte di reddito e dobbiamo concentrarci su quello prima che sui social media. Per quanto questi ultimi mi secca molto dirlo siano ormai assolutamente indispensabili per procurarsi nuovi clienti non dobbiamo cadere nella trappola di pensare che il nostro lavoro debba essere concentrato soltanto lì. Io sono dell'idea e questa è la mia esperienza che si possa vivere senza i social media quindi si può lavorare e procurarsi dei clienti senza i social media. Ovviamente aggiungendo quella parte ci sono più opportunità ci sono più occasioni quindi è una cosa buona però deve essere un'aggiunta non deve essere la cosa principale a meno che ovviamente non si voglia puntare a diventare influencer o creator in senso stretto e quindi staccarsi un po' dalla propria professione e dedicarsi esclusivamente o quasi esclusivamente alla creazione di contenuti è il percorso che fanno tantissimi creator io ne vedo tantissimi soprattutto su instagram e tiktok ovviamente ma devo dire ultimamente anche su youtube che parlano di una determinata professione ma fondamentalmente non la esercitano ne parlano perché l'hanno fatta all'inizio ma poi sono esplosi come influencer molto grossi e quindi hanno smesso di dedicarsi a quella professione e quindi ormai parlano di una cosa che non fanno più parlano di una cosa che hanno fatto anni addietro ma ormai il loro lavoro principale è semplicemente mettersi col telefonino parlare al telefonino e raccontare quelle due cose ovviamente sono scelte non critico nessuno semplicemente dobbiamo essere molto cauti a decidere in che direzione vogliamo andare perché se il nostro obiettivo è lavorare con la fotografia e utilizzare i social media per portarci più clienti dobbiamo stare attenti a non cadere nella trappola di occuparci esclusivamente di social media e continuare a parlare di fotografia perché a quel punto non saremo più dei fotografi che parlano di fotografia ma saremo degli influencer che parlano di una cosa che non stanno più facendo corollario di questo mio ragionamento talvolta anzi molto spesso fare il social media manager è un trampolino di lancio per i fotografi perché perché io ve lo dico ragazzi nessuno assume un fotografo in italia nessuno o meglio è difficilissimo sì posso ammettere che ci siano un paio di aziende che assumono un fotografo però saranno veramente contate sulle punte delle dita quasi nessuno assume un fotografo quindi io stesso non vengo assunto in quanto sono capace di fare così col dito e ho una macchina fotografica non è quello che ti fa assumere ti fai assumere come social media manager perché facendolo per te stesso hai maturato esperienza tale da saper fare determinate cose da saperle proporre ad altri clienti quindi vieni assunto come social media manager con il plus di saper fare le foto quindi sei un social media manager che è in grado di produrre i contenuti questa è un'ottima cosa questo è un asset è molto competitivo con cui possiamo porci sul mercato quindi nel momento in cui abbiamo una buona esperienza fotografica e una buona esperienza nei social media ecco che diventiamo un elemento interessante per diverse aziende perché a quel punto abbiamo qualcosa da offrire questo qualcosa non è ripeto non è la fotografia è il fatto di saper fare social media con il bonus di saper anche creare contenuti questa è una via interessante perché per esempio è un po quella che ho intrapreso io nel senso che io non sono un esperto di social media so fare determinate cose che sono appetibili per molte aziende quindi so fare tutta una parte di social media che mi permette di scattare in maniera coerente e competitiva perché quando io scatto una cosa so che utilizzo ne verrà fatto e quindi conosco i formati so come trattare i file e so come consegnare un prodotto che sia già pronto per l'utilizzo che ne deve fare il cliente da questo punto di vista il mio percorso può essere un esempio per chi sta cominciando adesso ovviamente non è una paternale ma è semplicemente un consiglio se voi state cominciando a intraprendere i primi passi nel mondo della fotografia il mio consiglio è di appassionarvi anche ai social media probabilmente lo state già facendo per i fatti vostri senza che ve lo dice sì o ma lasciate che vi dia questo consiglio è un asset molto importante per diventare più appetibili per eventuali aziende o anche partner con cui potete collaborare perché nel momento in cui vi offrite come fotografi state fondamentalmente andando in competizione con chiunque abbia un iphone in mano nel momento in cui vi offrite come social media manager e fotografi e videomaker anche perché facciamo un pacchetto unico in quel momento state offrendo un servizio completo e molti saranno disposti a darvi dei soldi perché li state sgravando di tutta una parte che non vogliono fare perché quasi nessuno che ha un'azienda e quindi un altro lavoro vuole mettersi a fare il social media manager in più e nessuno che ha un'azienda e quindi un altro lavoro vuole mettersi a fare il fotografo tendenzialmente vorranno affidare questa mansione a qualcun altro per quanto sia probabilmente la parte più divertente di tutta la filiera produttiva però quando io ho un'azienda mia difficilmente voglio mettermi a fare i contenuti per instagram per la mia azienda io voglio pensare al mio core business e lasciare che queste frivolezze le faccia qualcun altro in maniera tale che io posso concentrarmi su quello che mi fa effettivamente portare a casa il pane questo devo dire a onor del vero non è stato il ragionamento che mi ha portato dove sono adesso perché mi è andata un po a fortuna e un po a istinto io non avevo fatto questo ragionamento questa è una constatazione postuma però può essere utile per molti di voi che stanno iniziando in questo momento e magari sono indecisi sulla direzione da prendere il discorso è semplicissimo sia che decidiate di fare i professionisti in partita iva sia che decidiate di cercare di farvi assumere da un'azienda i social media vi serviranno prima o poi dovrete mettervi lì e aprirvi degli account sui social nel caso siate liberi professionisti per farvi conoscere nel caso lavoriate per un'azienda sarà effettivamente quella la vostra mansione quindi quella cosa lì vi serve che vi piaccia oppure no quindi è il caso secondo me di portarla avanti parimenti allo studio della fotografia anche perché teniamo sempre conto che esistono pessimi fotografi che hanno un ottimo riscontro solo perché sono bravi con i social quindi non ci dimentichiamo che c'è anche quella componente io non consiglierei a un giovane fotografo che sta cominciando adesso di diventare iper tecnico nella fotografia come magari sto cercando di fare io perché a me piace ma io sconsiglierei un percorso votato all'iper tecnicismo solamente in campo fotografico tralasciando completamente la parte social così come sconsiglierei anche di diventare iper tecnico nei social trascurando la parte creativa consiglierei di portarli avanti di pari passo i due discorsi perché un bel momento c'è una bella sinergia per cui o abbiamo dei risultati perché riusciamo a proporci efficacemente sul mercato attraverso i social e quindi riusciamo a proporre efficacemente il nostro lavoro oppure diventiamo appetibili per un'azienda che ci assume come social media manager non ci assumeranno mai come fotografi ma abbiamo anche l'asset da venderci che possiamo andare a fare i contenuti per i clienti dell'agenzia o dell'azienda per cui stiamo andando a lavorare a questo punto amici io vi chiedo questo è un ragionamento che trovate scontato l'avevate già fatto oppure vi è caduta la famosa mela di newton in testa e vi ho aperto un mondo fatemelo sapere in un commento vi aspetto numerosi vi ricordo anche di iscrivervi al canale attivare anche la campanella perché se questo video vi ha spalancato delle porte che prima credevate essere rimediabilmente sigillate vi garantisco che non è assolutamente un caso e ne arriveranno altri di contenuti come questo per cui sempre meglio rimanere aggiornati lasciate anche un like a questo video perché se l'avete visto fin qui probabilmente a qualcosa vi è servito io come sempre vi ringrazio di aver passato un po del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.